buongiorno a tutti eccoci arrivati ad un nuovo video qui del canale questo video oggi è un video un po diverso quindi sarà una così una lieve riflessione riguardo un libro che è un libro famosissimo di trading che poi dopo vi dico che libro è perché è stato uno dei libri che a tanti anni fa lessi e l'ho iniziato a rileggere proprio negli ultimi giorni quindi volevo con voi andare a leggere soprattutto una parte ma magari farò altri video di questo tipo dove andrò a prendere alcune frasi di questo libro proprio perché è un libro un po atipico che poi vi spiego che possono essere comunque ricondotte tranquillamente all'approccio di trading mio e quello che cerco di tramandare in tanti anni con yearforex e con tutti i progetti la formazione che abbiamo fatto in questi anni ricordo che yearforex è un sito attivo da fine del 2009 il blog addirittura ancora prima quindi c'è un po di storia anche solo a livello formativo del trading detto questo che libro di che libro sto parlando ma prima di dirvi di che libro sto parlando vi chiedo ovviamente di iscrivervi a questo canale se non siete iscritti questo ve lo dico sempre perché tante volte molti di voi guardano i nostri video ma non sono ancora iscritti quindi iscrivervi attivare la campanellina perché così potete avere le notifiche di tutti i nostri video delle nostre live e se il video vi piacerà mettere un mi piace di di che video stiamo parlando di che libro stiamo parlando allora guardate il libro ve lo ve lo faccio vedere qui vediamo un po se riesco eccolo qua questo è il libro the market wizards market wizards conversation with america stop traders scritto da jack schweger che è un libro famosissimo questa è la copertina libro famosissimo forse uno dei libri più belli di trading proprio perché appunto jack schweger va a intervistare tantissimi top trader che negli anni sono stati riconosciuti gestori di fondi eccetera che hanno fatto performance di un certo tipo soprattutto costanza e la cosa su cui volevo soffermarmi diciamo oggi è una determinata frase di un determinato trader ma la cosa che mi piace di questo libro è che seppur le interviste sono fatte su un mare di interviste poi hanno fatto varie rivisitazioni di questo libro che comunque vi consiglio è tutto in lingua inglese ma abbastanza semplice e poi con i mezzi che ci sono oggi sono a tradurre non è così difficile come può essere come deve essere un tempo ma appunto la cosa che è interessante di questo libro è che seppur vengono intervistati differenti tipi di traders differenti approcci metodologie quindi traders veramente diversi tra di loro posso veramente concludere che i trader che hanno successo i trader che comunque hanno avuto dei risultati che sono stati costanti hanno spesso delle caratteristiche in comune ecco questa è la cosa che mi sento di dire principalmente quindi queste caratteristiche in comune si rivedono soprattutto negli aspetti di money management e di chiamiamola così psicologia del trader no poi però anche in altre cose in effetti più tecniche possono essere approcci differenti simili oggi volevo con voi andare a prendere una parte che vi dico già del trader di che trader è quindi che intervista vado a prendere del libro che è quella di paul tudor jones c'è una breve una breve introduzione appunto a questo trader paul tudor jones che è stato anche appunto gestore del suo fondo tudor future funds come potete notare e che insomma ha avuto i risultati benissimo andiamo alla pagina che mi interessa a me che è pagina 64 se la parte che mi piacerebbe con voi almeno questa volta andare a prendere vediamo se facendo così eccolo qua è la parte dedicata a questa domanda su cui paul tudor jones risponde su cui mi sento assolutamente in linea e soprattutto credo sia una parte da proporvi perché così anche voi possiate riflettere riguardo al vostro trading riguardo al trading perché noto anche dai commenti a volte che escono che sono usciti in questi anni su youtube alle domande alle mail in generale che tante volte ci si focalizza su cose non realmente importanti quando invece ci sono delle cose estremamente fondamentali che bisogna tenere nel nostre diciamo ma neanche nel nostro piano di trading proprio nel nostro intimo del trader del trading e quindi di essere trader e secondo me su questa parte devo dire che paul tudor jones ricalca delle cose su cui mi sento assolutamente in sintonia e ripeto voglio che anche voi possiate approfondire quello che sto dicendo qui e soprattutto cercare di capirlo magari ci vorrà del tempo quindi magari rileggendo rileggendo magari facendo un po di esperienza su questo allora prendo la pagina proprio totalmente qui eccola qua la ovviamente in questo caso vi faccio una traduzione così rapidamente senza stare lì a leggere in inglese che non ha senso intanto la domanda era quali sono diciamo le tue regole del trading cioè regole di trading su cui stai su cui vivi diciamo no cioè quali sono le tue regole di trading benissimo lui fa tutta una serie di cose io qua vi leggo delle parti ok che sono secondo me le più interessanti soprattutto la parte che va praticamente da qui a qui tralasciando magari una piccola parte qui in mezzo ma è questa la parte che mi piacerebbe con voi andare a discutere allora lui dice se hai una posizione perdente che ti mette a disagio la soluzione è molto semplice esci perché puoi sempre rientrare non c'è niente di meglio di un nuovo inizio non preoccuparti troppo di dove sei entrato in una posizione quindi il tuo punto di entrata l'unica cosa l'unica domanda rilevante è se sei rialzista o ribassista su quella posizione quel giorno pensa sempre al tuo punto d'ingresso come all'ultima chiusura di giornata diciamo poi questa parte qua non la prenderei in considerazione perché parla del trader neofita va bene andiamo avanti partiamo da ritorniamo da qua the most important rule sarebbe la regola più importante del trading è giocare un'ottima difesa non un ottimo attacco ogni giorno presumo che ogni posizione che ho sia sbagliata ogni giorno presumo che ogni posizione che ho sia sbagliata so dove saranno i miei punti di rischio massimo di stop loss praticamente lo faccio così perché posso definire il mio massimo drawdown possibile spero di passare il resto della giornata a godermi le posizioni che stanno andando nella mia direzione se stanno andando contro di me allora ho un piano per uscirne diciamo predefinito non essere un eroe dice don't be a hero non avere un ego metti sempre in discussione te stesso le tue capacità non sentirti mai molto bravo nel momento in cui lo fai you are dead sei morto ecco prenderei questa tutta questa parte qui con appunto togliendo questa parte interna che più di tanto non ci interessa tutta questa parte qui dall'inizio alla fine con voi adesso magari riflettiamo un po su quello che diceva tudor allora intanto dice se è una posizione perdente che ti mette a disagio la soluzione è molto semplice esci perché puoi sempre rientrare ok quindi intanto la cosa che dobbiamo capire benissimo abbiamo una posizione a mercato questa posizione non sta guadagnando questa posizione non sta guadagnando ma ci fa rimanere tranquilli su quella che era la decisione che abbiamo fatto o iniziamo un po a avere dei dubbi su quello che è in realtà al mercato cioè non ci fa più essere confident con la posizione benissimo se è così usciamo perché tanto come dice il buon tudore sono totalmente in accordo con questo pensiero si può sempre rientrare quindi tagliamo la perdita prima tanto se il mercato ci riconferma l'idea è quella che si può sempre rientrare quindi manteniamo le perdite piccole poi dice non c'è niente di meglio di nuovo inizio è vero cioè un nuovo inizio sulla nuova conferma è assolutamente reale questo no non preoccuparti troppo di dove sei entrato in una posizione l'unica domanda rilevante è se sei rialzista o ribassista sulla posizione quel giorno è molto importante anche questa cioè al di là di dove tu sei entrato la domanda che ti devi fare è ma tu in questo momento sei ancora rialzista o ribassista quello che è in quella posizione o stai o hai cambiato idea ci sono delle cose che ti hanno fatto cambiare idea cioè riflettiamo su questo molto interessante pensa sempre al tuo punto di ingresso come all'ultima chiusura di giornata pensa sempre al tuo punto di ingresso come all'ultima chiusura di giornata quindi cioè guardando l'ultima chiusura di giornata quindi guardiamo il punto di ingresso e vediamo che cosa sta facendo il mercato cioè ci ha cambiato la nostra view rispetto all'ultima chiusura di giornata o no questo va un po implicitamente a dire non operiamo di fretta durante la giornata per un movimento contrario magari ma aspettiamo la close di giornata poi dice la regola più importante del trading è giocare un'ottima difesa non un ottimo attacco questo è un qualcosa che ho sempre detto guardate su questo libro ci sono un sacco di interviste un sacco di bellissime domande e risposte di vari trader ne parleremo ancora per esempio covner dove ha tirato fuori un sacco di di ottime risposte su quali magari ci soffermeremo nei prossimi video comunque la regola più importante del trading è giocare un'ottima difesa non un ottimo attacco dice quindi non è che noi dobbiamo osservare quanto possiamo guadagnare su un trade o quante volte entriamo su dei trade perché no possiamo guadagnare tanto ma l'importante è capire quanto stiamo perdendo quanto possiamo perdere su quel mercato quindi giochiamo una buona difesa questo vale anche un po nello sport io ho giocato a basket tanto tempo ancora oggi così mi diverto e ogni volta la frase no che mi viene a dire in campo quando si gioca è ragazzi si vince in difesa non si vince in attacco quindi sì dobbiamo giocare un buon attacco ma in realtà poi le vittorie si fanno in difesa e questa cosa vale anche nel trading no cioè se noi cerchiamo di gestire bene il rischio quindi giochiamo in difesa bene poi probabilmente l'attacco fa da sé no cioè giochiamo anche un ottimo attacco ogni giorno dice sempre qui presumo che ogni posizione che ho sia sbagliata anche qui mi vede totalmente d'accordo tante volte io dico ogni trade che noi facciamo comunque può essere quella statistica che ci va contro no quindi non possiamo pensare che anche se quel tipo di trade è diciamo è ottimale come impostazione grafica possa per forza per quel motivo essere un trade profittevole ed è per questo che quando noi entriamo dobbiamo accettare direttamente il rischio quando si entra quindi accettiamo il rischio perché perché ogni giorno possiamo pensare che quella posizione che noi su cui stiamo entrando qui siamo entrati può risultare sbagliata e quindi mai rischiare più del previsto ed ecco l'ottima difesa so dove saranno i miei punti di rischio massimo di stop loss beh qui ovviamente lo sappiamo lo faccio così perché posso definire il mio massimo drawdown possibile cioè io ho due posizioni facciamo finta dove su queste due posizioni sto rischiando il 2 per cento su ognuna beh so che il mio massimo drawdown su quelle due posizioni sarà il 4 per cento spero di passare il resto della giornata a godermi le posizioni che stanno andando nella mia direzione dice se stanno andando contro di me allora ho un piano per uscirne predefinito ed ecco qui la tranquillità emotiva di avere definito bene un rischio quindi avere un'ottima difesa già predefinita se le posizioni vanno nella mia benissimo me le godo lui dice no ma se vanno contro comunque sto tranquillo perché so esattamente dove uscirò quindi totalmente in linea con come dire il mindset di arforex no come approccio al trading e poi bellissimo alla fine non essere un eroe non avere un ego metti sempre in discussione te stesso le tue capacità non sentirti mai molto bravo nel momento in cui lo fai sei morto e qui ci sta per chiudere tutta la parte psicologia cioè il nostro approccio al trading deve essere sempre fatto con estrema umiltà il trader che perde umiltà o che non è umile è un trader che nel lungo termine perde soldi avete capito quindi aspettate mi faccio rivedere che ho rimasto così ecco qua quindi massima umiltà cioè il discorso tra l'altro è un'intervista questa quindi lui ha racchiuso e questa è una delle domande dell'intervista ce ne sono tantissime altre lui ha racchiuso dentro questa questa risposta tantissimi forse un po tutto in realtà la domanda no quali sono le regole del tuo trading tipo per cui no tu fai trading cioè lui ha inserito veramente tutte le cose che reputo molte delle cose che reputo fondamentali basilari e alla fine conclude con il trader che fa profitto il trader che non muore è un trader umile ecco qui si racchiude il pensiero di tudor si racchiude il pensiero di arduino e di arforex e bene o male chi mi segue da molto queste cose sono sempre venute fuori magari in maniera non non uguale con degli esempi non identici ma il punto è quello bene io vorrei che voi tutti qui della community di arforex del trading italiano che stanno seguendo questo video riflettessero bene su quelle che sono le cose che sono uscite da questa domanda di questa intervista di questo bellissimo libro che vi consiglio assolutamente magari mettiamo anche il link in descrizione per arrivarci direttamente perché ci sono varie edizioni questa qui è l'edizione che trovate proprio in cartaceo anche molto bella e poi ci sono anche degli update in realtà quindi probabilmente trovate anche di update comunque in linea di massimo vi lascio anche il link è in inglese ma ripeto avete visto no basta essere abbastanza non essere per forza dei maghi dell'inglese si riesce tranquillamente a leggere ed è molto scorrevole poi tutte queste interviste si può leggere un'intervista al giorno e magari nei punti vuoti della giornata e quindi si possono riempire con queste letture che sinceramente per noi trader sono sicuramente ottimali anche perché di libri di trading belli che possono essere formativi e efficaci poi anche per il nostro trading al di là del metodo non ce ne sono tantissimi questo reputo assoluto lo reputo assolutamente un bellissimo libro bene allora vi chiedo di lasciare un mi piace ve lo ricordo se il video vi è piaciuto continueremo a fare questo tipo di di video qualche volta magari prendendo sempre spunto da questo bellissimo libro e io non non ho più altro da dire quindi vi auguro una buonissima giornata un buon trading simple per la prossima settimana e vi saluto grazie ciao